beh ragazzi e benvenuti in marvel sfida dei campioni ragazzi oggi siamo qua su marvel perchè ve lo avete chiesto voi perchè ho controllato youtube e spero mostro ecco siamo qua minecraft in fondo sul mio canale voto qui e ci sono due like ragazzi se non volete minecraft va bene io lo accetto quindi non volete minecraft va bene va bene comunque se non volete minecraft ragazzi va bene non se non volete minecraft pazienza io lo accetto comunque solo che ragazzi però scrivete sotto nei commenti quale gioco volete aspettate che metto la fotocamera scrivetemi sotto nei commenti che cosa volete fra questi giochi marvel sfida dei campioni best quest, granny, baldi basics o minecraft e vi ho pensato minecraft perchè comunque è da un po' che non lo mettevo sul canale insomma e quindi ho pensato minecraft come gioco perché insomma marvel sfida dei campioni è un gioco sì bello comunque molto bello però che non lo so c'è tu non è che fai tanto qua invece su minecraft lo costruisci fare mining puoi fare tante cose su minecraft invece qua su marvel sfida dei campioni per l'appunto non posso fare proprio tanti tanti cose quindi è questo che ho voluto portare di minecraft per l'appunto comunque va bene se voi volete marvel sfida dei campioni lo accetto però scrivetemi qua sotto nei commenti quale gioco preferite ragazzi la fotocamera sta andando proprio indietro e lo so purtroppo è così è così ma ma guarda come va indietro io me lo sto accorgendo adesso dalla fotocamera cioè raga ho proprio indietro ragazzi però allora la mia idea di oggi non era quella di fare un video su marvel sfida dei campioni cioè sì però poi ci ho ripensato e ho detto visto che scusate visto che un paio di mesi fa un bel po' di mesi fa ho fatto un video in cui parlavo non del mio cellulare ma in cui parlavo tipo di un di un parlavo insomma di uno scherzo che faceva con la mia amica per finta che in realtà non l'ho più fatto però raga ho visto 36 visualizzazioni wow registrando salutate no aspettate dicendo salutate io youtube no francesca matematica per domani te lo mando quando arrivo a casa che sono da mio nonno quelle per domani quelle per domani youtube 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 e di quando alle 3 di abim bim 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 salutate raga raga non vogliono salutare ciao no ok basta fare lo stupio allora facciamoli uno scherzo scusate ragazzi ok ho fatto una cosa allora cosa facciamo non lo so sinceramente ci stanno ora ragazzi quando mi rispondono bene ben venga sinceramente io si non mi tratta voglia io di eh di fare video di marvel per questo che eh perchè ragazzi ne ho appena registrato un'ora ma l'ho cancellato perchè io l'ho fatto con un google record e mi andava tutto veloce e non 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 si capiva niente quindi vabbè vabbè ragazzi vabbè 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 raga io voglio fare un video un po' diverso lo so che voi mi avete chiesto mare per si vede i campioni però prossimamente lo facciamo oggi volevo far provare un nuovo gioco questo che insomma qua c'è anche cose da fare ma ma adesso si vede i campioni si è un po' è un bel gioco ok ora posso mettere la fotocamera ehm marvel si vede i campioni è un bellissimo gioco magari mi metti la fotocamera grazie giochi ma adesso i campioni è un bellissimo gioco non c'è niente da dire però beh non lo so raga mmm cioè fare sempre video devo fare sempre le stesse cose combaterla la 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 mi ha scocciato raga mi ha scocciato scusatemi ma mi ha scocciato cos'è mostra chi è chi è allora ragazzi giochiamo a best question boom epos raga epos che è successo è un italiano oh no ma mi stai provando ad affrontare raga che è successo andrei cioè qua best quest è di nuovo in italiano è di nuovo in italiano best quest benissimo ragazzi benissimo a me mi trovavo quelle cose qua che vedete scritte c'è bisogno di metallo c'è il sereno c'è il sereno lì mi compareva tutte le cose là in inglese non ci fa più niente cioè qualcosa si però raga wow meno male meno male ok andiamo qua perché io con Elena ragazzi se non sapete niente di questo gioco non vi spaventate questo qua è un gioco che ne ho fatto pure il libro è un gioco che ne ho fatto pure il libro e è un gioco che ne ho fatto pure il gioco e ve l'ho voluto portare a scena adesso perché non lo so non sono a scena allora adesso noi dobbiamo cercare di scavalcare il gioco perché noi dobbiamo andare su questo gioco che è la non so se l'avete visto non so se l'avete visto non so se l'avete visto chiamare una cosa che ne vada è bloccato eh no è bloccato è bloccato è bloccato è bloccato è bloccato una migliata delle bestie che in realtà non sono cattive però vabbè però è difficile da spiegare dovete comprare i libri non si distrugge poi con il fuoco proviamo non si distrugge vabbè eh ragazzi non si distrugge come faccio che distrugge ma come faccio come faccio meno meno benissimo ma si ah si devo distrugge tipo qua i barili da pazzi nooo non si non si non si non si non si non si Vabbè, pazienza E' là Oggi Così mi devo mattare Ma io lo stavo anch'io Ehm... Non fare una cosa Stiamo giocando a queste e queste Chi è quel tizio là Non lo so Ma io lo evito Io lo evito Perché ovviamente Non lo spiegherò Ok, allora L'anno più spiegherò Prima che spiegherò Ma ma che me lo conoscemo io Lo conoscemo io Sì Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto Menele comando lasciate Mi piace 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 Buoni C'è stato Per risultarci Per lo scrivete In questo video Di commenti Se vi piace Ehm Se vi piace Appunto Questo gioco Quest Quest Se non mi piace Ragazzi Ditemelo E Non lo porto Benissimo Ragazzi Vi salutano Perfetto Vi salutano Tutti Ehm Ragazzi Ehm Buo ragazzi Benissimo Ragazzi Ma di francese Perché Il numero 5 Da fare Sul quaderno Aspettate Ciao Ciao YouTube La memoria E' piena Ehm 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 Eh Lo dobbiamo dire Noi Luca Ma veramente Basta Perfetto Ragazzi Ciao Ragazzi Ciao 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 Ciao